I benzinai italiani hanno annunciato due giorni di sciopero e i distributori saranno chiusi sulle strade cittadine a partire dalle 19.30 di stasera ad arrivare alle 9 del mattino del prossimo venerdì 10 luglio. In contemporanea sulle autostrade distributori chiusi a partire dalle 22 di stasera fino allo stesso orario del 9 luglio. E questa la misura scelta dai benzinai per manifestare la propria insofferenza nei confronti dell'immobilismo del governo rispetto a questioni di rinnovo contrattuale della categoria e della riformulazione delle regole del settore. A Napoli in tanti quest'oggi gli automobilisti si sono radunati fuori le pompe di benzina per fare il pieno prima di rimanere a secco. Fatto di fornimento in vista dello sciopero? Sì, però dicono che qua non fanno sciopero, insomma. Non credo che ci sia questa grande emergenza comunque. Meglio prevenire però lei si è prevenuto. Sempre. Ha saputo di questo sciopero, cosa ne pensa? Ho saputo, sì. Cosa ne pensa? Eh, sciopero, faccio un po' pieno, no? Se no non si può lavorare. Non si può lavorare. Il signore fa rifornimento in vista dello sciopero? No, no, così normalmente, senza nessun rifornimento. Ma sa dei due giorni di sciopero dei benzinai? No, non lo sapevo. Ha saputo però dello sciopero? Eh vabbè, adesso già vicino all'estate, si sa, no? È sempre la stessa cosa, devono vedere come fare soldi perché anche loro devono andare in vacanza. Quando si arriva sotto questi periodi è sempre la stessa storia e io puntualmente non metto mai benzina in quei periodi, proprio per evitare di riempire le tasche e benzinare, solo quello. Grazie. 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 Grazie.